7-7 prima, azione! 8-7 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 prima, azione! 9-7 prima, azione! 9-7 prima, azione! Siamo fra amici. Ehm, non è questo che è lo soggetto. Andiamo, andiamo. Romano, siamo fra amici! Romano, tu ti vuoi invitare? Eh, niente, non voglio... Romano, vada! Oh. Eh, mica l'interrogatore! Non mi faccio la professione. Ma non lo vuoi, siamo fra amici, vuoi parlare? Ehm, andiamo. Lui è il semmero del viso, che faccio? Ad un punto di fine della notte poi dicerò ok! SP3 seconda, azione! Ok! Stop! Lui, a ringraziare si è detto ok! E la giubiliate... E la giubiliate, la cingasate da Capri Lui In Ducesse! Ma come? In casate da Capri Lui In Ducesse? Lui In Ducesse, una cosa è... Ma chi diceva mentre? E c'ho... Scusi ma va da fissare il testo? Sì, come ha fatto venire qua? Con i secondi anni, fa una cammanata e è merda, 3 metri! Infatti Infatti Vabbè, motore, partito, azione Scusate, ma non ci sta niente No, ragazzi, io sono pronto Questi sono le quattro ore Infatti Alzati, arduin All'azione ti abbasso Alzati All'azione ti abbasso? Sì Alzati Ma perché stai in piedi? Ma chi sei scemo? Sto facendo seriamente Alzati, eh All'azione ti abbasso Mi hai detto Non abbassati All'azione ti abbasso All'azione ti abbasso Alzati All'azione ti abbasso? Sì Mi hai detto Non abbassati All'azione ti abbasso Ma che sì Sì, lo vado Vieni Ma vado a me Ti provi Dai, devi fare l'arrivo L'arrivo? Mi abbasso? Sì Ah, aspetta però Fai un po' così Non mi hai sposto Tu vuoi solo abbassare a loro? Eh, Alessandro, perché se no è difficile No, come fa? Non la fai Non la fai Non la fai Che problemi Ok È complicato Ok, azione Adesso io, sì Ma parla come mangi Stop Stop No Vabbè 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 Eh Bozzo parla Non è un momento Lo so che siamo in pausa Lo so che siamo in pausa Sì È successo imprevisto U Oh 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 Ti amo Pure il cavo Posizione Ma è l'arresto di Santini? Quel Boretti è un trance Video partito Motore partito La lascia comunque no? Lasciala si Audio partito 02 Calamo C6 si C'è il mustafonico con noi ragazzi Mustafonico in campo Azione Io vi talento Tanti Salvatore secondo te si è fatto male? Manda schinatti Azione Aspetta il giorno Ti voglio insegnare Se non ti vedi a collaborare Io combatteremo la festa risorta Stop Ti lasciamo Stop O la seguo Quello questo è il ragazzo Ne porti il menù Chi lo vieni a giudarmi Lo vieni a giudarmi Lo sa sfilato Ma questo è una decant Le mani le mani che sanno tradire Che sanno copire Che sanno stranare Le mani spiegate Che danno la fine Le mani le mani assassini Che sanno stranare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.